Ok l'ho fatto Ulisse è pieno di cesto Ulisse io non so cosa c'è in questo cesto ma è stra pieno Aspetta fammi mettere a posto La mia roba che sono la merda Ah Ulisse ci sono le trappole con i dispenser T'hanno ucciso le dispenser Ah Oddio Sono money in fatigue 99 A tutta parte questo potrebbe essere utile Ma no ti conferma Ok Sto andando vedendo comunque se c'è qualcosa Ah è pieno di cesto guarda se vuoi le apriamo insieme Ma cominciamo da dove? Dove sei? Eh aspetta sono qua Ce n'era una a sinistra vai Due a sinistra anzi Un coin Un po' di coin Altri coin Prendi Prenditi Spacco la cesta direttamente faccio prima Quixa Non guardare gli enderman lascia stare lo sono bravi Che fa l'enderman? Una basic L'ho picchiato mi sa Mi sa che si incazza Se te lo uccidi si Si incazza normale Una cesta Con un'altra Ben basic Oh La smetti di rubare la cesta Oh si è vero Sono tipo wire qua Esatto 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 C'erano le pozioni dentro Guarda qui Vieni qui a vedere Vieni qui Ah hai già preso Li ho preso ho preso tutte io Eh hai visto c'era il dispenser con le pozioni Probabilmente l'ha lanciato qualche pozione addosso Oh ma tutte basic sono una merda Che direci di merda eh Sì effettivamente Vabbè quella è una cosa che andava presa all'inizio in teoria Eh no due milioni No più che altro io vorrei capire Che c'è qua sotto Attento eh Spacco eh Tanta roba Eh infatti c'è un altro posto Sì c'è Vabbè vabbè Qua c'è qualcosa Da qua si scende Da qua si scende Dove Non si scende Non scendeva Non scendeva Dalla Troppo mi estremi Scendeva Ah c'è Ah è bello Io vado sotto Sono enderman Ci sono creeper Ah è proprio a livello Colpa mia Colpa mia Capoletta Non ricordami di Distrugge le primarie pozioni Che c'era qua dentro Eh la pozione BAM 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 Spawner 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 Cancella tutti Spawner Sto provando Sto provando Oh è muore Sì c'è Sì c'è L'agno di me Oh di rani C'è andati Oh oh Ok spawner è andato Mazzar purissimo quanta x Stiamo a fa Da paura Ok vediamo che c'è qua dentro Una basic Che schifo Dai più scendiamo Meglio è In teoria Sì poi Non si sa male Eh però non è più togge Ah qui si scende Sto modo perché è un troll Disumano Guarda queste pozioni Ecco mi ha tirato la pozione Uh basic Ragazzi so che non vedete Una mazza però Potete Oh e muori Ah guarda come muoiono Rani di merda Rani di merda Ho tipo distrutto lo spawner In due secondi Urano gigante Ciao lì Io ho dei rani Per sempre Ciao lì Ciao lì Morto Ma questa è una rissa Comunque Oh 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 Morto Vai passa Passa Io qui si scende L'altra parte si scendeva Comunque Ho trovato un'altra scala Ho trovato Aspetta aspetta c'è uno spawner qua Fallo 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 Una chest Chest Ok Good Stack Ma è buono Sì Stack è buono Più si va sotto Allora Tripla basica E tanti coin Addirittura Un creeper di terra Un enderman che si è arrabbiato Non sono stato io a farlo arrabbiare No manco io Se sei la con te Mi sa che con te E' incazzato No chi Io faccio arrabbiare gli enderman da quando Scusami Da sempre Non è vero Guarda guarda su enderman Guardalo Ok Vogliamo scendere Ah bene Ma è meglio qua Dove stai Ho trovato qualcosa Ho trovato qua Guardalo 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 bestardo Sono trappet queste Sì sono trappet Ok Scendiamo giù allora Dove vuoi andare Da che parte Dov'è che si scende Di qua di qua Andiamo Ok Io torcero tutto Ma cambia qualcosa Se scendiamo di qua o di là No Presumo di no Quanti cacchio sono Vai io c'ho Io c'ho C'è un'armatura Sono creeper potenziati Io c'ho quali che volano Insomma Dei creeper Mi faccio volare Ok ragazzi Siamo delle macchine mortali Oddio Siamo delle macchine Di morte e distruzione Lender creeper è morto Tutto morto Bene Tutto 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 Oh quant'è Oh Oddio Sa Un creeper Appena volato su di te Serio Ha volato nel senso Che è volato davvero Sì Ok Io ce l'ho inventato pieno Farò un remix Una believe and fly No No grazie Lo farò Non voglio essere Involved in queste cose Mi dai le torce Che non ce li ho Do torce Eh l'ho finita Eh ok Bene Allora ricordati dove siamo andati Già Eh Senza torce Non vediamo una minchia Eh lo so Devo andare a prendere casa Eh se vai sì Se vuoi fare un giro Io potrò Se voglio fare un giro Capito Lui intanto Se esplora dungeon C'è il mondo qua dentro Ulisse Begga assurdo Ho esploso un creeper Eh Begga assurdo L'ho trovato qua Ehi ciao amici Non ho capito che botte Che sto dando Io Ah ragni Non fanno niente ragni Con queste spade Che siamo fatti Sono volto un po' p C'era talmente tanta gente Ulisse Ho trovato un nuovo livello Ho trovato Ulisse ci sono tre spawner Qua dentro Il fatto di block over elston Buono Oh no Ulisse Non riesco a fare un cacchio Aia Oh Stupido Coso Aia Pozione di merda E' una pozione di che cosa Di qualcosa Ah Io l'ho fatta Sì Ok Sì Dove sei Alexander Scusa Sì Ah se qui al lato da me A sinistra E' stato terribile Ulisse E' stata la cosa più terribile Della mia vita Ok Continua di lì Che io sto arrivando No no io vado a prendere le torci Oggi dopo questa cosa Ah ok Aspetta ma prendiamo le torci Torniamo magari giù Tanto sappiamo E' rimasto traumatizzato Aia Terzo piano Terzo piano Da Tupido Cosi Merda Morita Qua c'è qui una cesta Carina Ulisse Spetti di svuotare le ceste Basta svuotare le ceste Sono mie Ho trovato un'altra uscita Un po' i blocchi di elston Si scende ancora giù Dopo c'è un blocchi di elston sotto Quindi possiamo guardare Blocchi di elston Sta vieni vieni Non serve Tanto ci scendendo Ora guardiamo Perché c'è un blocchi di elston Ah si vede Sì sì Sono luminosi Quella merda Ok Arrivo da te Ok vieni qua Allora ci sono due uscite O di qua o dall'altra parte Eh dimmi tu Dall'altra parte Vieni Andiamo dall'altra parte Oddio i blocchi di elston Convisto Tutti i miei Ah no c'ho le torce Per quello si vedeva No Tornata su Tornata su Hai bisogno di Luce Hai bisogno di luce Ok andiamo a prendere le torce Eh sì Andiamo Andiamo Ultimo pozioni Non lo so Non lo so Un casino Scrive bag Scrive bag Allora abbiamo 5 basic Una guida E una greta Ok 18 basic 3 guida Ok ragazzi A posto Ok Facciamo stick Quanti stick abbiamo Non lo so Call Tantissime Ne ho croftate un milione Ne ho croftate Ok abbiamo fatto 18 milioni di torce Andiamo No anch'io Ho io call Dai ce l'ho io Ce l'ho io Tieni Tieni Io ho tipo 7 stack di torce Ok andiamo dai Si parte Si parte Si parte Si parte Sono pronto Sono pronto Come si chiama Quello che diceva Sono pronto Sono pronto No non mi ricordo E cosa E quello lì Ah Timo Ma per favore Luis è cosa Spongebob Dai mamma mia La cultura Dei cartoni moderni Il più bel cartone Della storia Tu non guardi Spongebob Parliamo Una spugna di mare Parliamo Dov'è questa grande bellezza Dov'è la discesa Voglio sapere Non ha bellezza E qui Eh anche io Aspetta Qui è qui Si è già sceso Si è già sceso Dove sei sceso Aspetta Mi sono buttato Dove sei tu Lo sono ancora sceso Aspetta Ho perso il list Ragazzi Ci siamo persi il list Ciao Sander Dimenticatore di chest Lo sapevo Che dimenticavano i chest Sopra Non lo so Può darsi Nabbo Non può darsi Nabbo Ma io Pensavo a ammazzare i mob Pensavo Eh io Lutavo Però non tutto Potevo lutare Eh ma tutti Dicono così Poi alla fine Money Pasquare Eccetera Eccetera Ok sto scendendo Basta Basta rubare i moni Che c'è qua dentro Niente Ma se Oh 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 Sto morendo Sto morendo Quante mele è ancora Io ce ne ho metà È una trapto chest Vaffan Tu devi andare Una trapto chest Che posa indietro Ho visto Mi vedi Sì Andiamo Ciao Ulisse Ciao Ulisse Ti chiami La tua volta Sei una merda Ti giuro Vai vai Potte 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 Posso lo spawner Spawner è andato Pum 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 E che io sono Sono una metrighatrice Sono una metrighatrice Tandia quella nostra Aia Porca Ma Ulisse Non posso piazzare le torce È normale No Come è normale No No Dovresti poter piazzare le torce Eh si blocchi di resto o no No Come no Eh no Però posso piazzare le torce Colpici tutti Sto colpendo Sto colpendo Un macello qui dentro Un macello Le witch Le witch Le witch Le witch Lug Lug di suono Non so se è successo Ah io L'ho tolto il suono Proprio perché stava facendo sto bordello Aia Aia Sto morendo Sto morendo Sto morendo Sì ce la fai Ulisse Ce la fai Picchia 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 Eh lo uccide le witch Dove uccide Oh muori witch Chi merda Non vedo un cacchio però Oh sta witch muore o no Oh Spawner Spawner di witch Ecco perché Spawner di witch addirittura Aia Aia Io ci do di cose qua Per farlo Ho trovato due greeter Questo mi fa piacere Oh vedi Questa greeter Secondo me sotto Tutturiamo tutte le chest Piene di gender Mamma mia La resta Ulisse Oh altre greeter Quattro greeter In totale Ulisse Guarda quanta resta Io voglio scavare tutta Troppo Troppi suoni E troppo lag Ma quale Tu volevi la redstone Prima L'ho trovata Il bello sta nel fatto Che ho fatto 27 livelli Ulisse Sei spawner Qui ci sono Sei insieme Ti strui tutto Ti strui tutto Io sapete che mi metto qua Forma exp Invece di distruggere tutto Ulisse sta formando exp Eh aspetta però Creeper di merda Stupida witch Stiposa Tu mori male Ho Creeper di merda Il Creeper che ti serve Un Creeper enderman What the fuck Il Creeper enderman Ma si è quello che abbiamo ucciso Prima che ci ha droppato L'Henderman Se ci fa cattocassa Raccolto un po' di Enderman Sono uscito dal Creeper Ma è vero comunque Non ti fa piazzare questa roba Sto al 30 Ho trovato una cesta Sto al 31 Ho trovato un sacco di stack Xander Creeter Pure io Pure io Pure io Pure io Sto al 31 Sto al 31 Sto al 31 Instant health Ok c'è bisogno di instant health Almeno Ah come health Non c'è nessun problema Prendi la roba Prendi le ceste Prendo tutto Qui ci sei stato? Dall'altra parte Mi sa non ci sono stato Sì da destra Da destra Qui non c'è niente Dall'altra parte Andiamo a vedere Che c'è qui? Oh un bullione Ma dove un bullione? What? Ho trovato un bullione Qui di ero cosa c'è? Da qua non c'è niente Ma c'è la seconda uscita Sono sbagliato C'è la seconda entrata Scusami È trovata la seconda entrata Sì sì Tutti i due portano qui Secondo te c'è un piano sotto? Sì? Da 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 Mister Andiamo a vedere Ulisse Eh Ok Dove sei? Al centro Al centro si scende Ho trovato qualcosa di C'è un modo di scendere C'è un modo di scendere per forza Xander Xander ma c'è un modo di scendere per forza Non devemoscendere Sicuro Per me per me È una trappola Sta qua Sta qua Sta qua Eccolo Ci sta? Sì sì Ok arrivo È fatta apposta In discerso Non ci stanno manco le scalette Ah sì ci stanno Ho un fotte di roba Sponer botte botte Scendere lì Spendere lì Spendere lì Spendere lì Spendere lì Spendere lì Oh Cristo Allora a me non c'è le witch Scendere lì Aiuto aiuto Sì c'è quello focato C'è quello focato C'è quello focato incazzato Mi ha bruciato Ho risultato tutto Guarda la gente che è arrivata Mi fa quelli livelli Mi sono fatto Oddio Ok smite 5 F***ata pazzesca Spendere lì Spendere la cesta Anzi prendere la cesta Anzi prendere la cesta Quando mi ha fitto tutto Non le botte che stiamo dando lì Massacro Non ci deve andare Non ci deve andare No sono bravi No ragazzi io mi sento Dirò il suo Anche perché è bugato Una witch No no Dai però sei stronza Ok io ho rimpiato Ho rimpiato Ho rimpiato l'inventario Mi ha dato un sacco di minuti di problemi Tipo Di problemi You are a problem Ah aspetta aspetta Morando morando Se uccide nemici Se uccide nemici No Sì vabbè C'ho 18 milioni di buff Cacchio è questo Non ce l'ha le mele Guarda me la d'oro No aspetta 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 un sacco di buff E dai porca vacca Quanti ce l'ha di buff Buffa di merda Sei morto Ulisse Ah Ulisse è morto di magic Avevo fuoco Vileno Ma che problemi c'hai Guarda la gente BAM 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 Sander come siamo Aspetta le pozioni Di regeneration 2 almeno Ci dovrebbe essere le pozioni Cerca Cerca potion C'è sta Quella da 20 minuti Il boost Il boost più 4 No il boost 4 Dura 22 minuti Ulisse leggi Eh eh Aspetta mi sembra una sword No vabbè Tanto mo' torniamo Comunque io ce la stoffa Tranquillamente Io non so tu che problemi magici Eh ma io sono buttato In mezzo a tutti Ho trovato una witch Quale è il problema mio Ma pure io c'ho una witch Non capisco Eh sì ma io ho trovato Una witch E le tizie che mi ammazzavano Di brutto Oh sta witch Ha rotto la Ok io ora c'ho Tipo un cuore di più Ok è morto Ok mi ha droppato Instant health Mini in fatica Non ci faccio niente Sto recuperando un po' di cuori E devo scendere Eh sì Ulisse Ci servirbbe un aiutino Eeeh Alexander sì Dammi un secondo che scendo Pian piano Sto spaccando gli spawner Ah Dai Non morire Alexander Non morire Si scende qua Ok Madonna mi curo più di quanto fa Ho un po' di cuori Alexander Però io ce l'ha il boost 4 Non hai capito Io ce l'ho quanti cuori? C'ho tipo Spaccando gli spawner Quasi 40 Quasi 40 cuori 40 cuori Eh sì ho preso il boost 4 Ti ho detto E quanto ti dà dei cuori scusami Eh me ne dà 8 in più E portamelo pure a me no Ce ne so due E non ce l'ha più Solo una c'era Ah allora io ce l'ho ancora dietro Perché ce ne erano due A meno che non l'hai mangiato tu Ah lo so io uno l'ho mangiato Questo ce n'è comunque Ah no ce n'è un altro sicuramente Dove è la mia morte Dove è la mia morte Sander mi devi aiutare Non posso entrare lì dentro Ulisse Poi capire che sta succedendo qua dentro Ce sto io comunque che picchio eh Non lo vedi? Eh Sander sì però devo uccidere lo spawner Devo uccidere Ci mi dà una mano con lo spawner Magari fai un piacere Aspetta Non che sia difficile ucciderti così eh Che parliamo Oh li sto massacrando Oh Sì vabbè Ulisse che ho trovato Lascia per te Sander mi dà una mano Non ti trovo Non ti trovo E la parte in cui c'è la terra Lascia tu mi in pace Sto arrivando Ah la terra Ok arrivo Ok Eccomi Io non li stuggi con lo spawner Che poi prendo la mia roba Vado 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 Zombie che è ucciso Ok come l'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto Passo Aspetta che recupero la roba Uuuuh 8 bag gold Good aspetta Oh e dai cos'è Solo 8 Ehm pem 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 Mori Ok Stronza muori Aspetta che recupero Ci vedete che mi sta venendo mal di schiena Un crampo alla mano Quasi Quasi Oh mio dio Dai distruggiti È terribile Cioè io ho capito un dungeon Dice una stupidaggine Ah no mi si distrutta la matura Mi si distrutta Per quello morivo male Oh qua siamo tutto distrutta Capisco Comprendo il mio dolore Che fatica Allora mi siamo un piccone Piccone E mi serve anche Ehm Delle torce Ce l'abbiamo Ok delle mele Oh ma hanno troppato un arco con power Simpatico Buono Ok Ok posso arrivare Hai coperto la roba dentro le chest Tu per caso Oh qui c'è un altro arco Chi sei tu The boss Oh uno spawner Come the boss No aspetta Alexander No 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 Non ero un the boss Era un deficiente È un deficiente boss Esatto Ok Oh witch witch Che cacchio è questo Hai preso tutte le chest Sopra Le chest quali Sei sceso sotto Sei sceso già No 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 Sto Fai le witch Sto fa È pieno di witch Allora qua l'ho vista Ok Ma perché c'è un piano ancora più sotto Presumo di sì Ma che cacchio dici Sì Forza Ci sono le scale Vieni da me Aspetta aspetta Ho trovato una cosa con le witch Esplora tutto Che qua ci sono le scale Aspetta aspetta Ok More stupida witch Oh dio 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 Letta mage mi fanno Letta mage Letta mage Oh lol Porca vacca Mi ha fatto un male quel tizio Ok Sander Si Hai crashato No, no, ci sto, ci sto Ok A posto Tipo un sacco di bag Oddio Ok Sander, sotto sono i blazers, non è vero Sander, andiamo sopra a prenderci fire protection Che dici? Sotto sono i blazers, non ci ha lasciato Aspetta, devo respirare Rilas Allora, qua lo so Terribile è stato Di qua? Mi si sta rompendo l'armatura, Ulisse Eh, anche a me sei di sotto del tutto Andiamo sopra a prenderci fire protection Ulisse, sei pieno di fragilis Lo so, sono un frecciomane Ulisse, sei un uomo morto Ti prendi questa armatura di compensamento Grazie a tutti